Icardi non andrà al Napoli, Icardi resterà all'Inter e rifiuterà ogni offerta proveniente dalla campagna. Non mi trovo mai espressi in maniera così chiara e diretta tranne nel caso di Inzonzi, il quale annunciai un mese prima del suo acquisto. Però, perché dico questo ragazzi? Svederò tutto, chi me l'ha detto, chi me l'ha riferito al momento opportuno. Perché vi dico questo ragazzi? Perché ho la certezza che Icardi rifiuterà l'offerta del Napoli e il Napoli non lo prenderà, addirittura potrebbe arrivare nelle prossime settimane un rinnovo con sostanzioso aumento dell'ingaggio per Milica. Ragazzi ne ho la certezza, non si tratta di un'indiscrezione, non la riportano nessuna fonte giornalistica di rilevanza anche perché tutti dicono che Icardi andrà al Napoli. Ve lo posso dire con certezza e fermezza, Icardi rimarrà all'Inter a prendere il suo stipendio almeno fino a gennaio, probabilmente anche fino a giugno. La certezza e sono pronto a prendermi tutti gli insulti di questo mondo, qualora dovessi sbagliare, non si muoverà da Milano. Vandana non vuole muoversi dalla provincia, dalla grande provincia Lombarda e non vuole neanche andare a Torino. Ma se proprio la Juve dovesse decidere di affondare il colpo, cosa improbabile e attualmente impossibile, ci sarebbe un piccolo spiraglio per la Juventus. Per il Napoli attualmente questo spiraglio non è neanche piccolo, è inesistente. Il Napoli quindi non comprerà nessun centravanti se non Llorente, cercato tra i tanti anche dal Manchester e dall'Inter. Quindi, ricapitolando, Icardi non andrà da nessuna parte. Solo se dovesse arrivare un'offerta importante dalla Juve l'ultimo giorno di mercato, la pista gestione si potrebbe incredibilmente riaprire. Ha chiuso completamente le porte al Napoli, sia lui che la sua famiglia, un po' il motivo che ha spinto Edingeco a rinnovare con la Roma. Quindi ci sarà un esubero importante per l'Inter, che negli azzurri non saranno riusciti assolutamente a piazzare. E probabilmente, logicamente, neanche si riaprirà la porta ad un rientro in rosa per l'Argentino, che dunque rimarrà da separato in casa ad Appiano Gentile. Io vi invito a lasciare un mi piace, un commento e farvi sapere la vostra su questa esclusiva. Ciao a tutti!